E che si prepara oggi? Oggi prepariamo insieme la pasta al forno. Buona 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 da leccarsi i baffi. Fai rosolare una cipolla in olio extravergine di oliva, quindi aggiungi il macinato di carne mista e l'alloro. Fai rosolare il tutto a fiamma media. Mescola di tanto in tanto, aggiusta di sale e sfuma col vino bianco. Lascia evaporare completamente la parte alcolica. A questo punto aggiungi la passata di pomodoro, dell'acqua e porta a cottura il sugo aggiungendo sale e pepe. Trita la mortadella e le mozzarella. Versa la pasta in acqua bollente e cuoci per 3 minuti. Quindi scola la pasta nel sugo preparato in precedenza. Mescola bene il tutto. Aggiungi il formaggio grattugiato. La mortadella e la mozzarella. Mescola ancora. e trasferisci in un tegame. E distribuisci in maniera uniforme. Aggiungi il formaggio grattugiato in superficie. E un mestolo di sugo tenuto da parte. Ricopri bene il tutto. Quindi copri con il coperchio e porta in forno a 200 gradi per circa 20 minuti. A bollore elimina il coperchio. Prosegui la cottura fino a gratinatura. Ed eccola la pasta al forno pronta. Appena sfornata. Lasciamola riposare per una decina di minuti. In modo che gli ingredienti si innamorino fra loro. La vostra pasta al forno è pronta per essere servita e gustata. Perfetta per tutta la famiglia. Sempre dal cuore alle mani per te. Grazie a tutti per aver seguito anche questa videoricetta. Alla prossima! Ciao!